frutta rossa agrume di sottofondo spezia leggerissima naso pulito buona l'intensità buona la persistenza quindi al naso qui avete soddisfazione oggi arriva un cliente mi dicevo mi senti sta bottiglia che io vado a comprare mi trovo ogni tanto nelle marche e compro questo vino che vi faccio vedere si chiama io si chiama galileo produttore gurieri questo è un colli pesaresi san giovese 2019 ok proprio così al volo perché ogni tanto anche i clienti mi portano le bottiglie sono anche dei clienti che vanno in giro a prendere a comprare viene i contadini poi in bottiglia non poi me li fanno mi riporto perché vogliono sapere cosa ne pensi con le forse la parte peggiore del mio lavoro perché vanno dai contadini a prendere delle cose che non si inforcano comunque sia comunque sia galileo quindi vi dicevo il naso intensità persistenza pulito piacevole a questa parte di frutta rossa ricorda le more la prugna la pugna selvatica la ciliegie c'è una nota verde di sottofondo quindi poi questo agrume delicato piaceva una spezia leggera anche il palato senti la piacevole freschezza acida il san giovese in romagna soprattutto poi in altre zone dipende poi va bene da tante altre cose però comunque ha sempre quel nervosismo di fondo che te lo fa riconoscere quasi quasi ovunque comunque il san giovese quello che a volte ti fa in certi tagli in certi uvaggi e quello che ti fa vibrare il vino ti fa vibrare il sorso perché san giovese così la bella freschezza acida vibra fai fai fatica a incatenarlo lo puoi arginare lo puoi aiutare allora dopo sì che ti dà soddisfazione magari anche dopo qualche anno però vabbè dopo dipende dalla zona da 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 dove siete chi è il produttore sistema di vinificazione cloni eccetera eccetera in questo caso non so neanche quanto costa la bottiglia forse una decina 12 15 12 13 euro però se stiamo tra i 12 15 euro non di più secondo me li vale il naso è pulito anche la bocca bocca piacevole con quella bella freschezza acida si declina ogni tanto no su quel su una leggera sapidità il ritorno del ricordo di frutta di frutta rossa frutta nera quindi more bertilli poi prugni poi ciliegie poi insomma bello fruttato speziato la parte della speziatura regala anche un po di senso di lunghezza sia al naso che al palato pulito tannino appena appena rugoso ma comunque fine piacevole chiusura appena appena